Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Domani mattina per delle votature Viale Tiziano sarà chiuso nel tratto da Viale della 17esima Olimpiade a Piazza Cardinal Consalvi, prevista una deviazione per le linee 2 bus e 53. Giovedì invece, giovedì mattina in centro, corteo in ricordo delle vittime delle mafie, che partirà da Piazza dell'Esquirino e arriverà al Circo Massimo, passando per Via Merulana, Via Labicana, Via di San Gregorio e Via dei Cerchi. Durante il corteo previste chiusura al traffico e deviazioni per 18 linee tra bus e tram.